Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi porto in una nuova terra, questa terra forse la conoscete, il castello di Manto Rosso, proprio dietro al castello si nasconde una cenere di guerra con il nome Colpo Infocato, quindi dirigetevi da questa parte, proseguite per questo ponte, girate da questa parte, fate sempre, comunque funziona sempre questo trucchetto, girate a sinistra e questo comincia a caricare un colpo e colpisce i suoi compagni. Quindi proseguite da questa parte, su queste rocce, scendete qua sotto, è sempre dritto, sempre più avanti, quindi cosa fa questo Colpo Infocato? È un'abilità che mette fiamme in un ampio arco in avanti, però ho continuato ad usarla e non mi ha fatto l'altro colpo più potente, non ho capito perché, quindi provate a farlo voi. E quindi può essere applicato su armamenti da mischia, invece sulle armi colossali e fruste sono escluse, Quindi può essere usato solamente su armamenti da mischia. E adesso andremo ad applicarla, applichiamola qua sulla grand'ascia del gargoyle, ci metto questa, fuoco, e vado a provarla. Ecco, come potete vedere questo fa, però comunque se continua a caricare, non lo so, non ho capito come funziona, fa un attacco più potente. Comunque ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, ho un video brevissimo su come trovare questa cenere di guerra del Colpo Infocato, Io vi consiglio di iscrivervi al canale per altri tutorial e di lasciare un like. Quindi ragazzi, ciao!